Il suo libro è un libro che ti prende e spesso ti soffrevo. Ci soffrevo perché è presente anche la nuve in cui pensiamo tutti. Non c'è un luogo umano, forse anche di peccato, che non è mai assentato. Dio ci accompagna il nuovo, anche nella notte che è profonda, e noi lasciamo stare a grande. Se nulla scelta da separare dalla sua vita, anche Veronica non è stata separata dalla sua religione. Ma presa, presa dalle sue braccia, presa da Cristo, che dice, Veronica, tu sei la mia vita. Grazie a tutti.